In questo video vi parlo dei ghiacciai. I ghiacciai sono enormi distesi di ghiaccio che occupano circa un undicesimo della superficie terrestre. Come si formano questi ghiacciai? I ghiacciai si formano fondamentalmente da accumulo di neve perché la neve è ghiaccio anche se può non sembrare ma la neve è ghiaccio, sono cristalli di ghiaccio e man mano che la neve si accumula se il clima non è troppo caldo tale da sciogliere tutta la neve una parte della neve resta e si accumula di nano in nano. Si formano così i ghiacciai. Quindi inizialmente il ghiacciaio non è altro che neve che si sta compattando poi questa è una neve soffice dopo una nevicata formata da cristalli di ghiaccio poi man mano che si accumulano le nevicate gli strati sovrastanti vanno a premere su quelli sottostanti e quindi negli strati che stanno sotto l'aria comincia a essere espulsa a causa della pressione degli strati sovrastanti e quindi il ghiaccio tende a diventare col tempo via via sempre più compatto. Il ghiaccio compatto formato dai cristalli che si sono un po' fusi tra di loro si chiama fern. E quindi a un certo punto se io scavo in profondità in un ghiacciaio trovo il ghiaccio che non ha più l'aria tipico della neve, è un ghiaccio compatto di colore più o meno azzurro perché ha il colore dell'acqua e in questo ghiaccio, come in questa immagine, si può scorgere i vari strati di ghiaccio che derivano dai vari strati di nevicate per cui la stratificazione delle varie nevicate in qualche modo rimane nella memoria del ghiacciaio e quindi alla fine si forma il ghiaccio compatto tipico dei ghiacciai questo è il perito moreno in Argentina. Ecco, per chi si formi chiaramente in ghiacciaio ci vuole un clima adatto quindi o in un clima molto freddo o al di sopra di una certa quota questo perché durante l'estate o durante la stagione calda comunque il clima non deve essere così caldo tale da fondere la neve che è caduta e quindi esiste una quota che si chiama limite delle nevi perenni al di sopra della quale sappiamo che il clima non è così caldo tale da sciogliere tutta la neve che è venuta nella stagione per cui al di sopra del limite delle nevi perenni si può formare un ghiacciaio questo limite chiaramente dipende dal clima, dalla latitudine adesso prendo un grafico che non si trova nel Wikibooks ma è preso dal lupio Palmieri della Zanichelli allora questo grafico mostra come varia il limite al variare della latitudine allora 0 vuol dire che ci troviamo all'equatore quindi all'equatore se io controllo vado nell'ordinata vedo che questo limite è attorno ai 4-5 mila metri anzi diciamo si può in generale notare che nella fascia intertropicale cioè tra i due tropici da 30 a 30 siamo il limite è attorno ai 4-5 mila metri quindi il limite della quota è molto alto quindi i ghiacciai si formano solo nelle montagne più alte invece man mano che poi ci spostiamo nelle latitudini più elevate per esempio il nord Italia è a 45 gradi per cui siamo all'incirca qui infatti sono segnate le Alpi il limite è attorno, se vedete, ai 3 mila metri scarsi quindi nelle Alpi si formano solo pochi ghiacciai a quote, nelle quote più elevate e poi man mano che aumentiamo la latitudine questo limite tende a 0 quindi verso i poli, nelle regioni polari si vede sia latitudine nord sia latitudine sud il ghiacciaio può formarsi anche a quote molto basse se non addirittura a livello del mare allora andiamo a vedere quali tipi di ghiacciai esistono nel pianeta si classificano a seconda un po' della forma della dimensione, della loro struttura ad esempio i ghiacciai che si trovano sopra distese più o meno pianeggianti si chiamano ghiacciai continentali anche polari vengono detti perché in genere si trovano a latitudine abbastanza elevate i ghiacciai invece che si formano nelle montagne si chiamano ghiacciai montani poi ho messo anche la banchisa anche se non è un vero e proprio ghiacciaio però è lo strato di ghiaccio che si forma per il congelamento dell'acqua marina nelle regioni polari in genere allora ghiacciai continentali vengono anche chiamati inlandis sono per esempio quelli che si formano sopra l'Antartide questa è l'Antartide l'Antartide è ricoperto da un grande ghiacciaio ci sono anche delle regioni un po' montuose ma è prevalentemente pianeggiante ecco un altro ghiacciaio continentale si trova sopra la Groenlandia questa è la Groenlandia e anche la Groenlandia è ricoperta per buona parte da un ghiacciaio e da un ghiacciaio di tipo continentale ecco da questi ghiacciai continentali o comunque dai ghiacciai che arrivano fino al mare si possono staccare dei grossi pezzi di ghiaccio che poi galleggiano sull'acqua andando a formare i cosiddetti iceberg quindi gli iceberg si formano derivano dal distaccamento di ghiaccio che arriva dal continente quindi non è un ghiaccio che deriva dalla banchisa cioè dall'acqua di mare che solidifica questo è un iceberg gli iceberg sono famosi perché nascondono la maggior parte della massa circa i sette ottavi di sotto della superficie dell'acqua per cui sono particolarmente pericolosi per la navigazione perché possono danneggiare lo scafo delle imbarcazioni andiamo a vedere i ghiacciai montani sono i ghiacciai più famosi perché sono un po' più vicini a noi alcuni si trovano anche sulla catena alpina alcuni si trovano sulla catena himalayana o su altre montagne per esempio andiamo a vedere ecco questo è un ghiacciaio che si trova nel Gran Paradiso questo è il Gran Paradiso questo è un ghiacciaio molto famoso l'Ales si trova in Svizzera è il ghiacciaio più grande d'Europa qui si vede bene la struttura tipica di un ghiacciaio alpino il bacino circoglaciale la lingua che scende giù qui siamo nella catena himalayana anche qui questo è un ghiacciaio montano anche qui si vede una lunga lingua di ghiaccio e di detriti di morene che scendono nel fondo valle questo è un piccolo ghiacciaio l'unico ghiacciaio presente in Veneto il ghiacciaio della Marmolada che si trova nel versante nord appunto del massiccio della Marmolada è l'unico ghiacciaio dolomitico e questo è una lingua glaciale che scende giù da una montagna austriaca ecco questo è un piccolo ghiacciaio che si trova nella sommità del Kilimanjaro quindi è l'unico ghiacciaio che si trova in Africa questa foto invece mostra degli uomini sopra la banchisa la banchisa è ghiaccio galleggiante non molto spesso al massimo 3 metri che si origina per il congelamento dell'acqua marina per cui non è un ghiacciaio si chiama banchisa quando la banchisa si rompe come in questa foto inizia a formarsi il cosiddetto PAC ecco qua si vede in questa foto da satellite qui a sinistra abbiamo la banchisa e poi sulla destra mostra la banchisa tutta frammentata che si chiama appunto PAC andiamo adesso a vedere la struttura di un tipico ghiacciaio alpino ecco questa è l'immagine ripropone il ghiacciaio Ales in Svizzera la struttura è caratterizzata da una zona dove si accumula la neve e si forma il ghiaccio detto bacino collettore la parola collettore indica appunto che raccoglie neve in questo caso si chiama anche circo glaciale perché spesso ha una forma un po' circolare chiaramente questo bacino collettore si troverà al di sopra del limite delle nevi perenni altrimenti non si può formare il ghiaccio compatto poi da questo bacino collettore inizia a scendere la lingua glaciale detto anche bacino ablatore il termine ablare vuol dire portare via quindi una lingua glaciale che scende lungo il pendio il ghiacciaio si muove all'incirca di qualche centimetro al giorno e la lingua scende sotto il limite delle nevi perenni e quindi a un certo punto si scioglierà e quindi c'erà la fine la fronte glaciale lungo il percorso ci sono i crepacci che sono delle fessure profonde parallele molto pericolose per gli alpinisti e i seracchi che sono dei frammenti di varie forme quindi sono dei crepacci diciamo ulteriormente fessurati e poi il ghiacciaio caratterizzato dai detriti che lui forma che si chiamano morene queste morene possono essere laterali se posti diciamo lateralmente centrali quando si trovano in mezzo al ghiacciaio di fondo che sono sotto il ghiacciaio e quindi sono le morene che non si vedono o si vedranno solo quando il ghiacciaio si sarà ritirato e poi quella frontale cioè i detriti che si trovano dove termina il ghiacciaio andiamo a vedere qualche immagine ecco questo è un disegno che mostra così la struttura tipica la zona di accumulo cioè il bacino collettore o circo glaciale poi c'è il bacino ablatore o lingua glaciale che scende giù sotto la linea la limite delle nevi perenni ci sono i crepacci e alla fine c'è la fronte glaciale dove c'è la fronte glaciale poi si formano vari ruscelli torrenti che portano via l'acqua di fusione ci possono essere anche dei laghi glaciali favoriti sia dall'acqua di fusione e anche dalle morene che il ghiacciaio deposita ecco questo è qui siamo in Svizzera un ghiacciaio qui sopra si vede il bacino collettore il circo glaciale poi c'è la lingua che scende ha un colore grigiastro perché è ricca di detriti e poi c'è dove termina la fronte glaciale qui sotto in basso si vede un lago glaciale formato diciamo trattenuto dalle morene ecco questo è un circo glaciale vedete che ha una forma vagamente circolare e si possono vedere anche un certo numero di crepacci questo è l'imponente lingua glaciale che scende giù diciamo dal lungo la valle è il ghiacciaio dell'Ales in Svizzera questo ghiacciaio in fondo si intravedono di bacini collettori ce n'è più di uno perché questo è formato da varie lingue glaciali quindi c'è il bacino collettore e poi le varie lingue che scendono e si uniscono a formare questa grande lingua che scende giù nel fondo valle si possono anche in base a queste righe a queste morene centrali queste righe scure sono scie di detriti e si formano perché in alto c'è il punto di convergenza delle morene laterali per cui in base al numero di fasce bianche posso anche capire quante lingue glaciali si sono unite tra di loro in questo caso ci sono almeno una due tre lingue glaciali che si sono fuse per formare questa unica grande lingua che scende giù se si guarda bene proviamo a ingrandire un po' ecco si vede che il ghiacciaio è tutto crepacciato o meglio anche serraccato cioè tutto fratturato quindi qui sopra è abbastanza difficile camminare questo è un altro ghiacciaio qui siamo questo è il ghiacciaio in brum le montagne malayane qui i bacini insomma le montagne sono parecchio alte i bacini collettori non hanno la tipica forma circolare più che altro sono grandi lingue di ghiaccio che scendono da questi grandi vallate e questa è la marmolada anche qua si osservano molti crepacci allora questo ecco questo è un crepaccio gli alpinisti devono stare molto attenti quando camminano sopra i ghiacciai perché possono finire in fondo un crepaccio e per questo in genere si muovono in cordata questi sono dei seracchi cioè quando il ghiaccio è frantumato con varie forme diciamo i seracchi sono quasi impossibili da attraversare e questi sono i detriti morenici lasciati da una lingua glaciale che si è ritirata per cui possiamo dire che qua si vede la morena di fondo le morene che stavano sotto il ghiacciaio e qui ai piedi di questa montagna si vede la morena laterale cioè quella che si trovava a fianco del ghiacciaio questa è una lingua glaciale con dei crepacci e alla fine della lingua glaciale c'è un lago glaciale vediamo alcuni ghiacciai con Google Earth questa è la marmolada questo è il versante nord il versante sud è più ripido ed esposto al sole quindi non si formano ghiacciai il ghiacciai della marmolada è un piccolo ghiacciaio per cui non ha proprio la tipica struttura di un ghiacciaio alpino quindi non c'è il bacino collettore ablatore più che altro è un grande versante esposto a nord dove si forma un ghiacciaio che scende un po' alla volta scende verso valle ecco sul fondo valle è presente un lago che adesso è prevalentemente di sbarramento perché hanno costruito una diga però anche prima di questo lago c'era comunque un lago glaciale di origine morenica perché le morene del ghiacciaio in qualche modo trattenevano un po' d'acqua qui ai piedi del ghiacciaio andiamo a vedere un altro ghiacciaio andiamo nella catena himalayana il Gangotri Glacier qui si vede qui si vedono le grandi lingui glaciali che scendono dalle ballate himalayane si vedono ecco qua si vedono le morene laterali vedete qui si uniscono due lingue si forma una morena centrale anche se qui non si vede benissimo e poi qui è tutto bianco ecco risalendo dovremmo trovare una specie di circo glaciale anche se comunque vi dicevo qui le montagne sono molto alte per cui non si in genere non si formano proprio dei circhi glaciali si formano direttamente delle lingue che scendono verso valle e quindi questi sono ghiacciai himalayani andiamo andiamo in Svizzera andiamo a vedere l'Alesch ecco questo è l'Alesch che abbiamo visto anche nelle foto l'Alesch diciamo si vede è bello perché si vedono bene sia le morene laterali sia quelle centrali ecco qua si vede che le morene centrali si formano dove confluiscono le lingue glaciali per cui non sono altro che le morene laterali che si uniscono e formano la morena centrale si vede sia di questo sia in questo punto che qui si uniscono due morene laterali e i detriti quindi formano una scia scura al centro che forma la morena centrale ecco qui nella parte alta invece si vede meglio diciamo la zona del circo glaciale sia in questo punto sia in questo punto che ogni lingua ha il suo circo anche qua nella parte alta c'è il circo glaciale il bacino collettore e poi da qua scendono giù le lingue i crepacci sono tantissimi come si può vedere per cui è abbastanza diciamo pericoloso da camminarci sopra e questo è l'alesh andiamo a dare un'occhiata al chilimangiaro quindi siamo in Africa ecco il chilimangiaro anche qui il ghiacciaio il chilimangiaro è un vulcano quiescente per cui potrebbe anche risvegliarsi un ghiacciaio molto piccolo chilimangiaro siamo circa 5.000 metri e ecco si vede insomma che il ghiacciaio è veramente modesto e poi per finire andiamo in Antartide e abbiamo detto che invece qui abbiamo un ghiacciaio continentale un in lenzis un ghiacciaio i ghiacciai che si formano sopra le grandi distese pianeggianti come qui oppure come abbiamo visto prima in Groenlandia anche qui abbiamo l'indlandis e da questi ghiacciai che arrivano a quote molto basse arrivano anche al mare si staccano gli iceberg